Massima attenzione alla sicurezza in città. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha presentato questa mattina i dettagli del nuovo impianto di videosorveglianza installato nella centralissima piazza San Francesco. Da tempo i residenti, anche attraverso il comitato di quartiere, avevano chiesto di dotare l'area, troppo spesso bivacco per senza tetto e ubriachi, di telecamere. Penso che sia un fatto positivo. È sempre importante prevenire. Specialmente di sera, con questi ex comunitari che danno un pochettino fastidio. Troppo tardi, lo dovevano fare un po' prima. Ci vorrebbero altre, molto, molte altre cose, perché è proprio abbandonata questa piazza. Andiamo a vedere, si pigliano le panchine, mancano molte volte le luci spende, quindi non sono le telecamere che poi fanno bella la piazza, sono altre cose. Ma scatta già la polemica, proprio da parte dei residenti, sulla posizione degli occhi elettronici, che non consentirebbe di vigilare su tutta l'area. Danno una mano, certamente, per quanto attiene a un'area molto, molto ristretta all'interno della piazza. Ma i veri problemi di episodi di teppismo, che si sono verificati, se fossero state già installate le telecamere, non si sarebbe risolto assolutamente nulla. Perché l'area è veramente molto, molto ristretta.